Siamo alla Fiera di Milano, più precisamente a TuttoFood, una delle più importanti fiere di settore. Qui le imprese italiane ed europee si presentano al mercato mondiale, presentando i loro prodotti di punta e le novità. Noi siamo qua al TuttoFood per la prima volta con Onesti Group, che è il nostro distributore italiano. Dal 1 gennaio abbiamo fatto un accordo con loro, la Vincenzi rimane sempre 100% Vincenzi nostra, di famiglia. E Onesti Group è il più grosso distributore italiano che fattura circa 70 milioni di euro. Noi siamo la loro esclusiva più importante sul territorio italiano, mentre tutto il resto viene e continua a essere fatto da noi. Il Bicerin, come tu conosci, è il prodotto più importante, è il prodotto di punta. Adesso siamo in periodo ostivo, quindi presentiamo tutta la linea Sciroppi, di cui c'è la menta piperita, che è famosa in Italia per avere tre e mezzo di piantine di menta piperita piemontese per bottiglia, quindi è un prodotto di assoluta qualità. La nostra azienda cerca sempre di offrire alla clientela dei prodotti di altissima qualità e la collaborazione con Onesti Group ci serve per essere distribuiti non solo in grande distribuzione italiana, come noi abbiamo sempre fatto, ma essere capillari in tutte le varie regioni e province italiane. Dato che loro hanno più di 50 agenti, riusciamo ad arrivare anche in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, dove dal Piemonte era piuttosto difficile arrivare. Grazie.